bentornati amici siamo di nuovo qui all'interno di illustrator e siamo qui per vedere come si realizza un oggetto 3d un cubo isometrico la prima cosa da fare è prendere lo strumento rettangolo e andiamo tenendo premuto shift andiamo a tracciare un quadrato facile facile lo andiamo anche a centrare perché siamo pignoli allora lo selezioniamo a questo punto quello che dobbiamo fare andare su effetti e 3d come facilmente intuibile andiamo su extrude embevel vedete che quello che succede è che abbiamo fondamentalmente trasformato il nostro quadrato in un oggetto 3d a questo punto però che cosa succede dobbiamo andare a calcolare esattamente quanti punti dovrà essere profondo il nostro quadrato per questo motivo andiamo a semplificarci la vita scegliendo prima le dimensioni del nostro quadrato andiamo a selezionare punti e andiamo a dirgli 250 250 punti a questo punto noi torniamo su 3d torniamo su extrude embevel e gli andiamo a dire 250 perché i quadrati hanno tutti i lati uguali e i cubi anche a questo punto vedete che qui il quadrato è disposto nello spazio in una maniera un po randomica quello che possiamo fare se lo vogliamo isometrico come vi ho promesso all'inizio è che possiamo andare a selezionare una rotazione custom qui ci sono una serie di opzioni tra cui esistono anche le opzioni isometriche che ci aiutano molto quindi possiamo scegliere un isometrico qualunque perché tanto questo quadrato non ha niente dipinto sopra quindi i lati sono tutti assolutamente uguali a questo punto cose in più che possiamo andare a fare sono selezionare il tipo di superficie che vogliamo quindi in questo caso io rimarrei su una cosa di questo tipo perché così riusciamo a vedere bene quello che abbiamo fatto una volta che abbiamo terminato possiamo aprire le opzioni questa è una cosa che si vedrebbe meglio se ci fosse un gradiente però possiamo aumentare gli step della luce in questo modo andremmo ad agire sui gradienti in questo caso se ne vedono veramente pochi perché ogni superficie è abbastanza uniforme su un cerchio questa cosa sarebbe tanto più evidente ma la vedremo in un episodio successivo qui possiamo andare a spostare la nostra fonte di illuminazione quindi possiamo illuminare il nostro cubo da un punto che possiamo decidere un punto nello spazio che possiamo scegliere noi ovviamente se lo illuminiamo proprio dal centro vedete che il quadrato il cubo scusate si va a perdere quasi completamente se ci spostiamo su un lato facciamo una sorta di luce rembrandt dovremmo avere il maggior contrasto possibile e dovremo quindi riuscire a vedere bene tutti i nostri lati ora una cosa in più che vi voglio far vedere è il fatto che si può aggiungere un disegno sopra il nostro quadrato se noi andiamo ad aprire map art in questo caso possiamo selezionare dei simboli che sono già presenti all'interno di illustrator ma potremmo anche metterci i nostri cioè potremmo importare una forma vettoriale o importare una forma anche png e renderla successivamente vettoriale all'interno di illustrator nel momento in cui la andassimo a caricare all'interno dei nostri simboli verrebbe riportata qui ora nel momento in cui noi abbiamo un simbolo inserito qui dentro possiamo selezionarlo e vedete quello che succede che immediatamente viene proiettato su una delle facce del mio quadrato su quale faccia lo decido io l'ho proiettata in questo caso sulla prima delle sei facce ovviamente bisogna poi andare a vedere qual è la faccia su cui volete mettere cosa bisogna andare a selezionarsela in maniera tale da beccare quella giusta io qui potrei andare a selezionare la seconda e potrei andare a mettergli un'altra cosa adesso la seconda chissà qual è di tutte queste ma io posso continuare ad aggiungere cose e quindi abbiamo capito che questa per esempio è la terza io posso continuare andare avanti e questa probabilmente non è visibile vado avanti sulla quinta anche questa è possibile che non si veda vado avanti sull'ultima ed ecco qui quindi adesso abbiamo capito che questa è la prima questa qui è la terza e questa qui è la sesta su tutte le facce del nostro quadrato abbiamo applicato un artwork un simbolo che volevamo ovviamente se avessimo caricato il nostro logo o un'altra cosa avremmo potuto caricare quella sulle facce del nostro quadrato sarebbe stato sufficiente adesso non ho fatto ok quindi adesso è andato tutto perduto però non disperate sarebbe stato sufficiente per esempio nel momento in cui ho una pattern di questo tipo una pattern di questo tipo o una qualunque altra cosa una qualunque altra cosa composta da oggetti vettoriali è sufficiente che io vada a inserirla all'interno gli dico grafica e gli dico simbolo statico gli vado a dare ok in questo modo la prossima volta che io avrò un oggetto facciamo facciamo un cerchio questa volta giusto perché giusto per complicarci la vita facciamo creiamo un cerchio e creiamo un rettangolo dopo di che dopo di che andiamo a prendere non mi ricordo più dove non mi ricordo più dove questa è la prima volta che uso illustrator su questa macchina e non ho ancora tutte le mie cose al mio posto eccole qui allora vado a prendere il pathfinder e vado a fare questo quindi mi tengo solo mezzo cerchio torno sulle mie opzioni 3d e gli dico questa volta revolve e così abbiamo creato una sfera a questo punto sì che vediamo che qui blend steps possiamo aumentarli e vedete che il gradiente sulla sfera migliora notevolmente potremmo lavorare anche sugli altri parametri ma non è questo che mi interessa farvi vedere adesso ora prima cosa da fare cambiamo il colore di questa sfera se no non si capirà niente la sfera la facciamo bella scura ora quello che andremo a fare intanto la ingrandisco un po quello che andremo a fare sarà riaprirla e qui vedete che se avete appearance aperto come ce l'ho io qui vedete 3d revolve quindi potete cliccarlo e riaprire le vostre opzioni che possono essere modificate in qualunque momento quindi non sono modifiche distruttive per fortuna andiamo su map art vedete che qui ovviamente non ha le facce perché essendo una sfera ha una faccia sola e vedete che qui c'è il nuovo simbolo che è quello che io ho creato precedentemente nel momento in cui io lo tiro in questo punto vedete l'area bianca è la parte che è visibile a me in questo momento quindi se io mi posiziono nell'area bianca vedete che ho posizionato il mio simbolo sopra alla mia forma 3d posso andare a selezionare quest'opzione shade art fork in questo modo vedete che la luce dell'oggetto 3d funziona a effetto anche sul simbolo che io ho inserito se lo tolgo è molto poco realistico invece così ha un bel effetto io potrei anche degli invisible geometry in questo modo non vedrei più la sfera ma vedrei solamente il simbolo che ho inserito con l'effetto come se fosse applicato su una sfera questo è molto utile quando si fanno dei loghi perché potremmo volere un logo con un effetto 3d ma con una trasparenza dietro questa volta invece di fare cancel come ho fatto prima gli vado a dare ok e quindi vediamo che il nostro oggetto è finito ed è effettivamente così io posso riaprire e posso andarlo a ruotare questo caso vedete che non essendo un cubo ma essendo un cerchio è più gradevole il movimento il nostro simbolo ovviamente si sposta di conseguenza quindi potrebbe non essere quello che voglio spostarlo in questa maniera tuttavia è possibile farlo io quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere a questo punto però vi invito a fare almeno due cose la prima lasciate un like a questo video se vi ha insegnato qualcosa e magari lasciate anche un commento se c'è qualcosa che non avete capito bene o che volete approfondire la seconda cosa iscrivetevi a questo canale perché se questo video vi è piaciuto è assai probabile che vi piaceranno anche i prossimi e se attivate la campanella non rischiate nemmeno di perderveli con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video iscrivetevi al canale